8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 23! Dile 33! No, non viene il 63, 9, 24, 9, 20, 28! Dile 88, dai! 88! Dile 44! 44! 54! Sorride, sorride, dai, dai, dai! Eh, fai il mio sorrisone! Tu l'hai visto cosa? Dile 4, 8, 12! Le piace la tabellina del 4! Ma Giulio! Che ti è successo? Vai, vai, continui! Che ti è successo? Vai, continui! Sei impazzito! Ti piace la tabellina? Qui, ecco? Dile 4, 8, 12! Vai, 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 vai! 16! 20! 24! 28! 29! 26! 42! Sì! 40! 44! 48! 48... 49... 52... 52... 56... 56... 60... 64... 68... Dile setete! Sì, però muovendo la testa così. Settete! Hai visto Giulio cosa ti ho fatto? Ho insegnato le tabelline a Giulio.